La giunta guidata dal sindaco Massimo Seri ha approvato il progetto di fattibilità relativo all'ampliamento del cimitero di Rosciano Bellocchi. Il progetto è stato redato dall'ufficio tecnico del comune e prevede un edificio di due piani collegati da un ascensore, ma in un secondo momento verrà realizzato anche un ponticello di metallo. I lavori, come annunciato dall'assessore Fabio Latonelli, verranno avviati entro l'inizio del 2023. Questa struttura avrà 610 loculi e 125 ossari. Sarà suddivisa in due stralci. Abbiamo finanziato nel programma Trinale il primo stralcio di 760.000 euro, quindi realizzeremo 312 loculi e 64 ossarietti. I loculi verranno realizzati in opera con pareti e piani in calcestruzzo, con solai in latero cemento ed è previsto un rivestimento in laterizio, cioè questi mattoncini, su alcune delle pareti, intervellato da altre parti in tonacate e altre parti in marmo botticino. Assessore, in che modo e quando verrà avviata poi l'assegnazione di questi loculi? Innanzitutto va detto che siamo molto contenti di aver avviato l'iter di costituzione del primo dei due nuovi padiglioni del cimitero di Rosciano, di cui c'era bisogno e c'era anche grande richiesta. E proprio per questo abbiamo deciso di strutturare, diciamo anche di prevedere, anche un momento di prevendita di assegnazione di questi loculi o anche relativi ossarietti, prima della costituzione degli effettivi lavori che verranno, non appena questi però, calendarizzati e ben quantificati dai lavori pubblici. Quindi supponiamo, adesso gli uffici ci sono confrontati, che dopo l'estate avremo il quadro economico chiaro e da lì apriremo comunque una prima fase di vendita di loculi e ossarietti a Rosciano.